zampe in comune orme istituzionali di civiltà italiana a cura di gaia animali d'ambiente in studio edgar meyer genova natale e capodanno vegetariani l'associazione gaia animali ambiente liguria con il patrocinio del comune di genova lancia un'idea per natale capodanno festeggiare i cenoni con un menù tutto vegetariano sano gustoso nutriente ma soprattutto pacifico risparmia milioni di animali tra capponi caprette maialini vitelli in italia 600 milioni di animali vengono uccisi ogni anno per finire sulla nostra tavola gaia con il comune ha predisposto un ricettario veg per le feste si può partire da tartine con la crema del tonno felice che ha il sapore di vitello tonnato ma che rende felice il tonno perché in realtà si ottiene con farina di ceci per passare alle lasagne al forno con ragù di soia proseguire con zucchine ripiene di bosco e concludere con dolci a piacere senza dimenticare le lenticchie che portano buono per informazioni cliccare sul sito